Un punto a testa tra Pacentro e Dovidiana nel derby di giornata del centro Abruzzo della terza categoria. Padroni di casa ancora senza vuolo e privi dello squalificato Battaglini, mentre negli ospiti ci sono due squalificati Napoleoni e Natale e cinque infortunati. In panchina il tecnico Attilio Mezzadri riesce a portare solo tre elementi. I sulmonesi partono dunque sfavoriti ma alla fine riescono a conquistare un punto meritato al cospetto di un Pacentro che ha fatto registrare un passo indietro nella prestazione. Alla gara ha assistito una buona cornice di pubblico che però deve attendere diversi minuti per vedere un'azione. Il Pacentro si sbilancia in avanti ma Dovidiana si difende bene. Non si vede nulla di rilevante fino al 26esimo quando Luigi Santilli si aggiusta la palla con il petto ma viene chiuso provvidenzialmente dall'estremo difensore Erminio Dicenzo ex di turno. I ragazzi di Luciano di Marcantonio insistono e al 37esimo di Roberto prova una girata dentro l'area terminata fuori. Subito dopo si vede per la prima volta la squadra di Mezzadri con una conclusione di Lavella finita alta. Nella ripresa Attilio Mezzadri al posto di Alessandro Valeri inserisce Romanelli che si rende subito pericoloso al quinto con una conclusione dal limite dell'area. La palla sorbola di pochissimo la traversa terminando fuori con Lovidiana che reclama il calcio in angolo ma per l'arbitro Nino Buono nella sezione di Sulmona non c'è stata alcuna deviazione da parte di Epifano. All'ottavo ci prova Tottone per Lovidiana ma il suo tiro viene parato ad Epifano. La gara è tutta qui perché il Pacentro scompare completamente ed è Lovidiana a meritarsi gli apprezzamenti degli sportivi con un gioco attento ed ordinato. Gli uomini di Di Marcantonio provano a farsi vedere solo negli ultimi istanti del match ma non serve a cancellare quel che è stata una prestazione al di sotto delle aspettative. Merito a Lovidiana, autore di un secondo tempo indubbiamente migliore rispetto al Pacentro. Penso che anche il primo tempo abbiamo giocato bene, loro non è che hanno fatto granché. Abbiamo interpretato la partita nel migliore dei modi e i ragazzi hanno dato tutto e di questo sono contento sia dal punto di vista tattico che fisico. Secondo me è stato un risultato che alla fine ci va anche un po' stretto. Una prestazione è tutto a cuore, sicuramente questi ragazzi vanno incoraggiati tenendo presente che ancora una volta la squadra si è presentata con una formazione rimaneggiata. Hai detto giusto, però chi entra da sempre tutto e questo è importantissimo. Questo dimostra anche che non ci sono titolari e che quindi tutti quanti sono indispensabili e non necessari nel contesto di una partita. Questo penso che sia il risultato migliore per un allenatore, avere tutti a disposizione e nel momento giusto farsi trovare pronti. Sulla carta si partiva svantaggiati quest'oggi, però sul campo siete riusciti a guadagnare un punto davvero importante, un punto meritato che adesso incoraggia quanto la vostra squadra? Noi continuiamo a giocare sempre allo stesso modo, come ti avevo detto già sabato, l'altro sabato, stiamo crescendo fisicamente e questo è importantissimo. Poi i risultati se vengono, vengono, ma se la prestazione è quella di oggi penso che prima o poi ci dovremmo sbloccare anche noi. Purtroppo abbiamo delle deficienze ancora in avanti e speriamo di trovare i giusti meccanismi per far inserire magari un centrocampista o un trequartista e migliorare in avanti. Spagnoli, commentiamo questo 0-0 nel derby, una prestazione un po' sottotono del Pacentro nel secondo tempo, come mai? Assolutamente sottotono è la parola giusta. Il problema però è che non calcoliamo che ci sono gli avversari, quindi noi abbiamo fatto una prestazione al di sotto delle nostre capacità, però oggi abbiamo visto un avversario ben organizzato che è venuto qui col sangue ai denti, come si dice in queste categorie, come si dice in questi frangenti e soprattutto una squadra che stava su tutti i palloni, cosa che invece noi non abbiamo fatto, non abbiamo imposto il nostro gioco come è solito fare nelle ultime partite. Una cosa molto importante è che ci portiamo dietro l'imbattibilità che ormai dura da cinque giornate, quindi siamo arrivati a 450 minuti senza prendere gol. Abbiamo incontrato un ottimo Vidiana, facciamo i complimenti alla società, all'allenatore, ai ragazzi che oggi sono venuti qui molto sportivi, è stata una bellissima partita sotto questo punto di vista. Per noi è una lezione per capire effettivamente quali possono essere gli sbagli che si fanno durante una partita, ma soprattutto il campionato è molto lungo per cui siamo alla quinta giornata e speriamo in qualche passo falso anche delle altre squadre al vertice come Forme, Castronovo e Deportivo Luco. Ovviamente questo risultato non cambia le vostre ambizioni che sono quelle di tentare la scalata in seconda categoria, è vero? Dopo un anno di transizione. Sì, noi puntiamo ai playoff, quindi diciamo chiaramente perché è inutile nascondersi con elementi di questo spessore e di altra categoria. Puntiamo di prendere anche dei rinforzi adesso a dicembre, cerchiamo una punta, un centrocampista per dare al mister tutto ciò che serve per traghettare questa squadra in un'altra categoria, categoria che ci appartiene perché comunque sia, sai che Pacentro non riesce a stare lontano da quello che è prima categoria e così via. Con questo voglio ringraziare comunque tutti i ragazzi che oggi hanno assaporato il pareggio dopo tre giornate di vittorie consecutive, ringrazio la cornice di pubblico favolosa che è venuta oggi a trovarci e soprattutto la sportività perché oggi c'è stata molta sportività in campo e anche fuori.